Proviamo da peeling ora Ivern, queste cose qua Possiamo provare Jinx, Shen, Ivern Proviamo Ma secondo me invece è meglio Proviamo sempre fight Che comunque il peeling Non lo so Perché il fight Due peeling Ci possono canterare Questo team ha la da peeling, Giorgio, non ha la da peeling Orno, Rianna C'ho io il peeling Siamo tutti peeling Trinta, boh, quello che vuoi Banna tu Guarda, tu boh Ci sei Quindi Shen Confermate questo pick? Ma che Prendi Ivern allora Non ce l'ha No è in rotazione Se vuoi lo vuoi prendere Guardate che pick I rety No c'è Prendi karma, prendi karma Usaci Piglia quello che vuoi Giovanni quello che vuoi giocare mi hai fatto un cazzo del Zanin e poi con Shen penso il mille volte sarei lo prenderemo fino in spicca occhio a quello che ho piccato perché abbiamo Silas contro con Silas questo è un peccato vabbè possiamo anche lezzate ma quello di Vettoromeotti che vuole entrare in tutti con i tanti popolini non ho credito sono su come si chiama pro build stats si chiama schifoso e merdoso one trick pony karma bellissimo bellissimo ma questa è bellissima che c'è tu che mi offri qui non abbiamo danni io faccio solo peeling bello 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 è giusto secondo me è giustissimo secondo me secondo me tipo Zyra secondo me di peeling brand meglio secondo me se giochiamo di peeling dobbiamo avere sempre due che fanno danni al team non solo uno si si esatto esatto qui è giusto quindi support se tu per esempio prendi una karma come in questo è giusto che gli prendi danni potrebbe andare anche pike che tipo potrebbe andare anche mid brand vladimir top eh mid vladimir sicuro no non è vero non lo so e sarà mid zack top no penso sia zack top zack è sicuro aggiungo zack top sicuro zack top sicuro zack top volevo dire silas vladimir vladimir ehi come ti chiami mi chiamo simone cosentino prendo 2k al mese e il remix di questo mese sei solo un coglione frate prendo l'alfa mito e mi metto a sgassare allambrate ho smesso di fumare ma cavo è sandita ehi sì roba è aspostati dai ehi invadiamo? no no vladimir proviamo qua qua simone sto andando a guardare sto andando a guardare io sii vladimir Esco qua Ma Giovanni non ti deve guardare qua secondo te con Ivern Può guardare dove vuole, la ward all'inizio è sempre forte Abbiamo triplo tp con la ultiliscenda, madonna Beh, quindi è... la dispo In teoria mi counter Vuoi che vado io top? Venti la ward Vado io top? Ma... no, secondo me no Io mi do lo sfondo Silas Come sfondere WAD Però come è brutto la positioning Tanto di doppio a voi gliela tiro E tu gli tiri doppio a voi pure No, posso provare Tutto la positioning Però non avrà la cu No, ma lascio stare, lascio stare Provo io e batte No, ma lascio stare Ah, nice range Oh guardate, ho guardate Quanto cazzo è annoying No, ma lascio stare No, ma lascio stare Cristo Dio No, ma lascio stare Beh, ho guardate No, ma lascio stare non è vero Faccio la mia propria! E' un grande morium! Zack è adesso nel suo lato top Ok, ho la borgana Gang top, Zack Sì Ho fatto qualcosa? Pronto? Posso fare qualcosa? No No, ho flashato io Possiamo... Beh no, ci sono i minin, ci sono i minin Mi da 1, andato back Troppo non ignite Ho flashato mid Dove fai tu andi allo fra? Io? Ma io sono qua Ah quando vuoi? Ah no, mi ha visto, mi ha visto Eh no, ha flash via No, eh... Zack di behind Sono qui Flashalo adesso per evitare danni Zack B Oppure... Qui, ma non credo sia dai lupi Penso back Flash top! Minch 9 9 e 10 Zack mid Ma non ho mano Ma non ho mano, non posso fare niente W e niente Vengo la Q Ora si Zack Slash Zack 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 Quando c'è la ulti Giovanni Mezzo livello Zack top Zack top Zack ancora non ha beccato Ma c'è un gran Un gran win Non attacchi Non se l'aspetta Non se l'aspetta Non se l'aspetta Il drago lo possiamo fare In teoria si Zack era top Da come a Giovanni Gioca con la minchia del popo Guarda è scarsissimo Zack top Che cosa mi ping Mi chiami ammazzo tutti e due Mi chiami ammazzo No ho pingato io per sbaglio Perché lo vuole fare così Se lo vuoi donate a startare Io comunque sono Livello 4 Aspetta che c'è la ulti Aspettami aspettami La faccio io 4 e 50 4 e 50 4 e 50 Io mi provo una Q Guarda l'ho presa Non so la cazzo Che ho preposto Zack qui Non mi ping Ho la Wooty adesso Voi contigo Chiamatela Ho questo qui Ragazzi Io non lo posso prendere Quello scatto No 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 vai non parto Non partete Non partete Non partete Non partete Ok abbiamo un scena ulti Arrivo arrivo Ulti ciccio L'ho preso È morta È montato Sailas 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 Arrivo Zack Zack Ha flashato Slowato Mi sa che lo prendo Vai L'ho preso pure io È morto È morto Yumi Oh no Basta Lasciate una a me Perfetto Sono io il carry Andiamo Basta Ora quando c'era lo smite Tra sei secondi Ti sei accolto che non l'hai pigliato tu Cioè che L'ho preso L'ho preso io No no Sì sì l'ho preso Lo so La kill lo so che non l'ho preso Oh questa qui Ma che fa Ma che sta facendo Per questo ho detto Sono io il carry La prendo io Grazie ragazzi Mi ha fatto morire Aiuto qui Vabbè ma io non penso che sono a posto Lui non è a posto però Bessit top Dogs Basta Bessit ragazzi Divemi more kills Che c'hai sai con la ultima More kills Divemi Bessit top Trasci Abbiamo una ballerina Abbiamo anche io No non penso che venga Sto tra l'altro Però mi con ivern Non vinciamo Su Io ci sono Vai Guarda questa Non ci posso credere A caso Fa la ult Che prive Se scappate verso Battarrivo Ho Lo schild Eh Vabbè 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 Ci sono Vabbè 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 Va bene, va bene, va bene Nooo, nooo, peccato Va bene Ma quanto è durato sto fight Allora... Prenda le platemirche ulta perchè si spaventa che lo ammazzo Zaccrabot E' morto Zacc Morto a bot Te lo devo portare nel suo rosso Io ho richiesto a murro, te lo puoi... no, non te lo puoi fare Cioè, non sappiamo dove è Sylas Ma è qua Zacc Ok, livello 5 Sylas 3 è top, Giovanni, penso che muori L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto Non sono derivabili questi Ne... mi aiutate? Focus Zacc, va bene? Anzi no mi aiuta Verso mid, verso mid, verso mid Io ci sono, ci sono, verso qui, verso qui, che ho la E, ho la E Io pure ho la E Penso che vingiamo Ma che è sto volendo lì? Oh E' dritta Oh, go in town E' una d'attacco, ce la puoi fare o non prendere la torre? No, non lo voglio fare Ce la puoi fare A farsi Fuori io, con la Franco Ma fuori io con la passia Keep going, pain Ce la faccio a fare flash RQ? non lo spiegare se facciamo l'uccidevo mi sono attenuto alla colla meglio non lo spiegare subito il bravo in venti ragazzi io devo marchiare e regalare probabilmente io mi faccio questo guardate che dite così metto danni anche a voi ti devi fare sembra anche il purificatore c'è un tech non volevo fare morello faccio v avevo la rq se scappa te la lascio ce la fai? è sicuro non ho usato l'ignite no mi hai fatto buona oh un cucciolo sono tre scusami che ti ho fatto stunnare perdonami poteva bontanarmi un po' mamma può cadere? no no devo flashare mi sa io arrivo ho il w madonna è morta tra un pochino ho lo speed ti ulta il jinx bella 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 vado back ragazzi drago drago trago ragazzi le placca io ho tp però non posso farlo sul drago faccio sulla torre guardatemi guardatemi ma ha tanti danni devo colpare 10 pain non ho sbagliato non è np np ho sbagliato io innanzitutto no però non ho sbagliato tanto? da me da me da me da gioco con francesco questo valerio qua vabbè non è bello pensavo che era drago eh non lo puoi fare da solo infatti c'era non eravamo in tre la cola del drago bisogna rispettarla all'inizio era buona perchè ho visto valerio qua io li potremmo ammazzare tutti eh insomma io giro no non è bad se lo facciamo ne fa vabbè vabbè arrivo eh l'aprio vabbè non se lo hai detto faceva la massima io il red se lo fai un attimo lo posso prendere anch'io però si si piglia piglia ah piglio io porto dio ma no cioè che te la metto il carry che? esatto ma sei scemo perché l'hai preso? comunque Giorgio tre giorni di chat in vita bravo bravo xd mi facessi questo? c'è pure il blue cane lo posso prendere? ah bene ovviamente si danno le cose al carry capito? questa volta che prendi un blue buff io non dico più c'è un red vabbè non fa niente questo è il mio ferro carriamo a noi guarda questo video fratello può cadere? non ha più niente non ha più niente non ha più niente o la è o la è si può continuare uuuhuhuhu wtf? ah ok ho pensato che se si chiudere non l'ho preso quando mid no no ma che hanno fatto questa? buono che vero che signor zack copro il boss link up Ho la RB per Zacca Mi faccio il Luden comunque Sì, sì, tu devi metterlo più Da quello guarda Madonna sta persona a giocare Ci abbiamo due double buff Bellissimi Aggrediamoli Penso che Zacca fa la E Madonna quella A questo punto possono fare quello che voglia Non fanno niente Quella Q di cosa Di Yu mi sembra L'AQ di Morgano Mamma mia il top laner nostro Arriviamo pure io Puoi continuare, continua, continua Il tank, il tank, Zac, Zac Ok a posto Speed da bene, speed da bene Secondo me il bot va top contro Platy Siamo arrivati Oh, stanno arrivati qui Jackie chiamami lo speed Ragazzi chiamatemi vai Oh, Vladimir 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 Non fanno niente, non fanno niente 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 Questo tra un minuto Possiamo backare adesso Voi due state top Torno, torno, torno No, arrivo No, 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 non serve Vabbè torno Io mi speed, speed datemi Speed date Zac, Zac, Zac Speed datemi, speed datemi Anche Silas muore Scegli da tutti Ma finiamo Bene Inibitor Io ripeterei questa comp Comunque Giochiamola bene Impariamola Non è facile Che ci incurano Questo qui tra 30 secondi Prendiamo tutta la giungla Zac E andiamo a fare l'herald Questa comp è molto difficile Jinx Red Girli Dobbiamo essere bravissimi Giovanni fai Krug E vai top A pushare 10 secondi Vieni qua Che con la Q puoi entrare Con la mia Q puoi entrare Non smito, smito questo Ti preparo il Giorgetto La c'è mancina qua Vai, no, no, no Questo è il Drago, vuoi? Chi l'ho fatto qua? Ah Drago in 40 Ma... Marchio e Becco E Francesco vanno top a pushare No, c'è il Drago C'è il Drago Dopo Drago Ok Dopo Drago In ogni caso abbiamo il... Questo Guardate i mid No, è una merda Guardate Eh guardate Lo lo prendi in base, lo prendi in base No, percazzo No, 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 no Lo prendi in duro lo prendi Lo prendi in duro Dani, vieni, viene, vieni Io ci sono P*********g prendiamo primo botto pure e facciamo il gioco sii no sii no come andavo per i viti non usciò rispettatemi se sto coglione per il tono che ti faccio ho l'altro punto di post alas alas ho l'ho scelto tra poco e' gi va fortissima sta comp ragazzi herald devi stare a romanzo vai proprio liscio eh anzi mettilo quando ammazziamo le torri dopo che ammazziamo il nexus anzi no si dai voglio vedere che succede balla mh balla balla amore balla o ballo rocavallo ballo rocavallo ballo rocavallo ragazzi 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 lo vinciamo sto spacchio di torneo di distruggiamo ragazzi se volete ridere guardiamo l'ultimi venti secondi della partita no dopo andando giochiamo ok comunque ieri dissi a jacky no a proposi a jacky di fare flex e dissi che volevo imparare con voi anche a perdere perchè da quando giochiamo insieme vinciamo solo abbiamo solo vinto sempre promozione 2 per let's go per la parte